Da Milano ad Atripalda, un tour lungo tutto lo stivale, un fioretto. E' questo lo spirito che ha spinto Nicola Pastore del Circo L'Amatore della Bici a percorrere i 950 km lungo le strade e le salite del Giro d'Italia. Le 5 tappe di Marco Pantani. Arrivato qui Pastore ha depositato un gagliardetto dell'Avelino sulla tomba del Pirata, squadra di cui è molto tifoso. A 54 anni il ciclista amatore atripaldese ha attraversato tutta l'Italia, da Milano verso l'Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, per poi giungere l'altra sera ad Atripalda. Nicola è partito domenica scorsa dal capologo Lombardo, per poi tornare nella cittadina sulle rive del sabato, venerdì pomeriggio a Piazza Umberto I. La forza di volontà, ma soprattutto i grandi allenamenti in sella, in questi 5 giorni non hanno mai permesso al ciclista di gettare la spugna, un'impresa a dir poco epica che lo ha spinto sulle derute dopo aver scoperto la passione appunto grazie al Pirata, quest'ultimo scomparso nel lontano febbraio del 2004.